Questo tipo di incontri sono incontri veramente particolari perché consentono a tante persone che non si vedono magari da anni di ritrovarsi e ritrovarsi nel nome di una grande testata giornalistica per il medico e di un autore come Guido Crepas che è stato ed è ancora oggi uno dei nomi degli autori italiani di fumetti, dell'illustrazione più conosciuti nel mondo. Grazie di essere venuti, dirò poche parole assolutamente sentitissime perché Tempo Medico ha fatto parte anche del mio passato e Guido Crepas lo stesso, è stato un grandissimo amico, una grandissima persona. Passerò poi invece la parola al dottor Drey che è stato direttore di Tempo Medico per molto tempo e uno dei dirigenti della RADIG, l'agenzia di Tempo Medico che ancora continua quest'opera di conoscenza della medicina, di divulgazione, di aggiornamento del medico e soprattutto hanno conservato la memoria di quello che è stato il passato e anche la memoria di Guido Crepax. Ecco, Crepax ha cominciato disegnando da ragazzino, poi nel percorso di sopra potrete seguirlo in tutta la sua evoluzione perché Guido ha cominciato appunto da ragazzo a disegnare, grazie al fratello Franco che era discografico ha cominciato illustrando copertine di dischi e ancora giovanissimo, quasi immediatamente, nel 58 ha cominciato lavorando per Tempo Medico. È stato incaricato da subito di disegnare la copertina del numero 0 di Tempo Medico, poi il numero 1, 2, 3. Ha disegnato fino alla 312, poi ancora è andato avanti a farne altre alternandosi con alcuni altri autori tipo Sergio Toppi, autori così. E Crepax tutta la sua vita ha collaborato con Tempo Medico realizzando opere bellissime, le vedrete nella mostra a chi non le ha già viste. E quindi consente questa mostra di visitare tutto l'arco della sua produzione, l'evoluzione del suo segno grafico. Ma poi per Tempo Medico ha realizzato una rubrica che è il cuore di questa mostra e l'ha realizzata per 360 volte, ha illustrato 360 casi clinici, con una capacità rappresentativa e sperimentando su queste pagine con vignette di fumetto sostanzialmente, con tanto di balun, sperimentando forme grafiche che poi ha anche utilizzato nei suoi fumetti, anche in Valentina e in tante altre serie. Quindi vedere Tempo Medico, vedere le clinico-medie di cui si parlerà anche in questo incontro, certamente, è una, come dire, per me è una esperienza emozionante, ma per il medico è vedere cos'era l'informazione del medico e l'aggiornamento del medico in tutti quegli anni. Ed è un percorso di oltre 30 anni di storia della medicina italiana, di evoluzione della ricerca, eccetera, eccetera. Tempo Medico è qualcosa di straordinario. Un percorso che continuerà anche dopo questa mostra, perché mentre sarà in corso questa mostra cominceremo anche un'altra esposizione alla Università Statale di Milano e di questo si parlerà comunque nell'incontro, dove mostreremo tutte le copertine di guido, che sono oltre 200 copertine. Non aggiungo altro, credo che parli con le sue immagini. Vedendo la mostra vedrete tutto, scoprirete un che è pass comunque che non è mai stato esposto. Finora è rimasto soltanto conservato da Zadig, altri materiali conservati da noi, dalla fondazione e dal museo. Finalmente vengono esposti. Per me è un momento grandissimo. Spero che anche per voi questa emozione sia forte come l'è per me. Va bene. Anche meno, magari per... Allora, chiedermi perché Tempo Medico è stato così importante è come chiedere a Fruttivendolo se le sue mele sono buone. Per cui devo fare un esercizio, semmai di contenimento, soprattutto cercando di parlare di cosa è stato Tempo Medico prima che malauguratamente diventassi io direttore, in modo da evitare un autoincensamento. Allora, io credo che si possa dire, e qui ci sono molti medici di diverse epoche, di diverse età, che Tempo Medico sia stata la rivista per medici più amata dai lettori italiani. Su questo credo che ci siano pochi dubbi. Purtroppo non si può dire niente sulla più letta o la più diffusa, perché come sapete le riviste per medici erano e sono a cosiddetta diffusione controllata, cioè erano e sono inviate gratuitamente a un indirizzario che è cambiato nel tempo. Per cui non c'era il riscontro dell'acquisto in edicola o dell'abbonamento. Ma pur in mancanza di questo riscontro credo che non ci siano dubbi sul fatto che Tempo Medico è stato un episodio fondamentale dei 50 anni della storia della medicina e della sanità in Italia, a partire appunto dal 59, dal 60 fino a pochi anni fa, 2009 la richiusura. L'altra cosa che mi sento di dire è che l'importanza di Tempo Medico come rivista, come quindi strumento di cultura, è andato sicuramente molto al di là del mondo della medicina e della sanità. Questo per due motivi. Innanzitutto perché proprio per la sua impostazione è stata subito una rivista che non parlava solo di medicina, si occupava dell'attualità a 360 gradi e della cultura anche a 360 gradi. Questa era proprio l'impostazione del suo fondatore, Visconti, proprietario della PRL, che aveva deciso di fare il time dei medici italiani. Quindi Tempo Medico era questo, era il time medico sostanzialmente. Ne aveva adottato anche il formato che per l'Italia della fine degli anni 50 e per i primi anni 60 era rivoluzionario, perché si usavano ancora i periodici a formato come era l'espresso, a formato lenzuolo. Infatti Panorama, che è stato il primo periodico non generalista ad adottare quel formato, credo si è del 64, cioè cinque anni dopo Tempo Medico. E quindi questo era l'intento del fondatore, non di fare una rivista, era una rivista per medici ma non solo di medicina, era una rivista di cultura, di cultura e di attualità. Ma questo è il tempo di cui è stato, perché se voi andate a vedere quali erano anche fin dall'inizio i collaboratori, c'erano personaggi che all'epoca magari non erano famosi, non li conosceva nessuno, ma sono poi diventati famosissimi in tutti i campi dello scibile e del giornalismo e della cultura anche umanistica, eccetera. C'erano personaggi assolutamente di livello stratosferico. Ma il motivo forse ancora prima è che Tempo Medico è stato importante per la cultura, perché è stato innovatore anche come formula di giornalismo, cioè ha cambiato il modo, voi pensate, se riuscite a immaginarvi che cos'era il modo di presentare il mondo anche accademico o medico degli anni 50 e 60 in Italia, è pensare di fare una cosa come le cliniche o medie di cui parliamo oggi, cioè una cosa in cui i casi clinici vengono presentati a fumetti. Non esisteva ancora il fumetto per adulti, non era ancora nato l'Inus, i fumetti erano una cosa per bambini nell'Italia di quegli anni lì. Farli a fumetti, non solo, ma farli sotto forma di dialogo, con una vera e propria struttura teatrale, con dentro anche un coro che commenta dal di fuori quello che c'è dentro e pensare di fare questo coro con un sistema televisivo a circuito interno. che noi che abbiamo vissuto, non esiste ancora oggi di avere un sistema di discussione di questo genere, cioè era pura fantascienza, era pura fantascienza. Questo era tempo medico, come è nato, e così è stato, io ho cominciato, posso dire queste cose, perché io ho cominciato a leggere tempo medico negli anni 60, negli anni 60 quanti anni avevi? Ero al liceo, io ho cominciato a leggere tempo medico al liceo, cioè riuscivo a procurarmi i numeri di tempo medico e mi li leggevo al liceo. Credo che non sia uno degli ultimi motivi per cui poi mi sono iscritto a medicina, la lettura di tempo medico. Poi ho fatto medicina, continuando a leggere tempo medico, e non avrei mai immaginato, avevo per tempo medico una passione, non avrei mai immaginato che un giorno obbiassi, che era il professore con cui ho fatto la tesi, dopo la consegna della tesi fa, ma te interesserebbe scrivere per tempo medico? Io sono quasi svenuto. Questo appena laureato, cioè così. Allora, questa cosa qua mi ha cambiato completamente la vita, perché a questo punto dall'ammirazione di lettore mi sono stato catapultato in qualcosa, lo raccontavo guardando e ricordando con un amico poco fa le tavole, sono stato catapultato in una cosa che è assolutamente indimenticabile, che era la redazione di tempo medico. Qui c'è il professor Rugarli, qui davanti, che ne rappresentava, mentre Gallo Felice Venegoni era il direttore, l'anima giornalistica, ne rappresentava l'anima scientifica e culturale. Ma c'era anche Baldissera, che si è messo in ultima fila, ma per questo non l'ho notato immediatamente. Purtroppo altri non ci sono più, altri non hanno potuto venire. Io sono arrivato a Pistello, in quella redazione dove c'erano questi personaggi, con una spessore che io non avevo trovato nell'università. E ho cominciato a capire, per esempio, come si leggeva la letteratura scientifica lì, perché in università non avevo avuto modo di aprire, se non qualche volta, raramente il New England. E la biblioteca di tempo medico all'epoca aveva abbonamenti a cento riviste, che non aveva forse neanche il Mario Negri e molti istituti universitari. Ogni giovedì queste riviste le si leggeva insieme, e io assistevo a delle scene in cui degli articoli sul New England venivano smontati metodologicamente, fatti a pezzi, in mia presenza è come se fossero delle scartoffie. Lì ho imparato tutto. Cioè, io quello che so, e su cui vivo ancora adesso, l'ho imparato lì dentro. A mie spese, cioè duramente, perché all'inizio facevo delle figure veramente barbine, perché essendo uscito, per farvi ridere, lo riracconto, che avendo io studiato al liceo francese, non inglese, quando prendevo in mano Nature, lo pronunciavo Nature. Però sentivo che tutti leggevano delle cose molto interessanti su una rivista che io non capivo che cosa è Nature. Finché un giorno uno, mi ricordo che era Massimo Gianni, nel dire questa cosa, dice, sì, ho letto su Nature, e mi butta davanti e io faccio, ah, Nature! Poi immediatamente, ho capito, sono diventato rosso. Capite? Cioè, questa è stata la scuola che ho subito in quei primi anni. Da lì, ovviamente. Poi è successo che io comunque mi sono messo a fare il medico, ho lasciato tempo medico, credo di essere stato l'unico, forse nella storia della redazione di tempo medico, a essere uscito, non perché morto, o per altri incidenti gravi. Luca Cara però faceva parte della redazione giornalistica. Io sono uscito da quella lì, da quell'accademia di super eletti. Sono uscito perché volevo fare il medico, ero in terapia intensiva, pensavo di non farcela, fare tutte e due le cose, e poi a un certo punto sono rientrato e ho deciso, a un certo momento, mi ricordo, lo raccontavo, avendo fatto un'intervista a Henry Laborie, su, fra l'altro, istigazione del professor Rogali, che mi diede tutti i libri di Laborie da leggere, e fu per me una scoperta, anche quello, un personaggio che mi ha cambiato la vita, andai a intervistare e quando tornai decisi che quello era il lavoro che faceva realmente per me. Ecco, ho detto queste cose, citando la mia personale esperienza, perché credo, e me ne sono reso conto, stiamo tentando di fare una voce di Wikipedia su Tempo Medico, e invito tutti quelli che sono presenti, se hanno delle informazioni che pensano siano utili di mettere, come sapete, chiunque può entrare in una voce di Wikipedia, perché ci siamo resi conto che è difficilissima farla, fuggendo alle giuste forche e caudine dei censori degli editor di Wikipedia, che appena si scrive qualcosa che suona come promozionale, la cancellano immediatamente. Quindi lo sforzo che stiamo facendo su quella voce è proprio quello di riuscire a dire che cosa è stato Tempo Medico per noi, ma anche per i lettori e per tutti, senza cadere in quella chiave, che non va bene. Però, parlando di me, almeno ho potuto dire cosa ha dato me Tempo Medico, e questo è una testimonianza che do a volentieri. Grazie. Ma Crepax e Tempo Medico, probabilmente a chi conosce soltanto la parte fumettistica può sembrare strano. In realtà ci sono moltissimi punti in comune, al di là dell'amicizia con cui ha sempre lavorato con le redazioni di Tempo Medico, con tutte le persone che si sono succedute all'interno, e noi in casa sentivamo, tutte le volte che tornava da Tempo Medico, che era sicuramente meno arrabbiato di quando tornava dalla redazione di Linus. Per cui, se volete, c'è sempre stato un grande feeling, un grande rispetto reciproco. Che rapporto c'è tra Crepax e Tempo Medico? Beh, Tempo Medico innanzitutto ha dato a Guido Crepax la possibilità di fare i suoi primi fumetti. Quindi, questo direi un punto molto importante. I suoi primi fumetti perché praticamente nascono in contemporanea, con pochi mesi di distanza. Quindi incubavano sicuramente le storie di Valentina, però le storie di Valentina, la prima clinica medica del gennaio 65, e le storie di Valentina, la prima storia di Valentina, che qualcuno di voi forse sa, si chiama La Curva di Lesmo, e esce su Linus nell'aprile del 65. Quindi c'è quasi una contemporaneità. Mio papà aveva già fatto dei fumetti, ma quando aveva 13 anni. Aveva fatto dei piccoli albumini che disegnava sulla base dei racconti di sua mamma, che andava al cinema, e gli raccontava i film. E lui non voleva andare a vedere il film per non farsi condizionare troppo dal film, e riuscire a riprodurlo a 13 anni. Sì, sì, noi abbiamo dei piccoli album, abbiamo, così vi racconto, ma Luigi lo sa di sicuro, ha fatto il Dottor Jekyll e il Mr. Hyde, ha fatto il Vampiro, e adesso non mi ricordo il terzo, comunque sono tre piccoli album che noi conserviamo. Eh? L'Uomo Invisibile. L'Uomo Invisibile, esattamente. Infatti sono tre film, non a caso. Qui è Wikipedia. Non a caso sono tre film. E dicevamo di Tempo Medico. Tempo Medico, quindi, gli offre giovanissimo l'opportunità di fare i fumetti, e al tempo stesso di cimentarsi col primo lavoro professionale che in realtà abbia fatto. Perché si faceva, grazie a suo fratello Franco, che era discografico, disegnava le copertine di dischi per ricordi, per la caris, eccetera. E l'aveva fatto proprio in quegli anni, e lui ha cominciato alla fine degli anni 50, perché ha avuto, come dicevamo sempre noi figli, la grande fortuna di poter lavorare. E tra l'altro, appunto, sì, sì, appunto lo diciamo, c'è questo disco che è stato fatto da mio papà, mio zio, Dario Fo e Giorgio Gabber. Si chiama il mio amico Aldo, noi bambini l'abbiamo ascoltato fino a consumarlo, praticamente, dove le parti, i ruoli, diciamo, erano che papà ha disegnato solo la copertina, per cui ha avuto una parte minimale. Dario raccontava le storie, Giorgio Gabber suonava la chitarra, e lo zio Franco aveva scritto i testi, ecco, quindi volevo dirlo, questo ci tengo per mio zio, perché l'ha scritti lui, non li ha fatti Dario Fo ecco, precisiamolo, no? Quindi, e questo è inciso, quindi dicevo, ha fatto le copertine dei dischi, tempo medico, le cliniche medie per lui sono state, perché lui ha sempre inteso il suo lavoro come un grande unicum, cioè non c'erano sostanziali differenze e quando Roberto diceva facciamo fatica a metterlo su Wikipedia perché ci tacciano di fare pubblicità, ecco, per lui la pubblicità faceva parte del tutto, quindi non c'era differenza tra una produzione più artistica in senso strezzo, la pubblicità, tempo medico, le cliniche medie, tutti i lavori venivano affrontati con lo stesso impatto, la stessa serietà, la stessa cura, no? E infatti io poi vi racconto una cosa che così vi serve da guida nella mostra, poi se volete vi racconto anche delle cose delle cliniche medie che ho scoperto rileggendole. Ed è molto bello perché nelle cliniche medie c'è il resto del suo lavoro in realtà, no? Per cui quello più visibile sono le donne. Allora, le donne che erano, mi perdonino tutte le tante donne che vedo presenti, erano in una posizione secondaria, erano le specializzande, le assistenti, però lui le metteva in luce in qualche modo perché le donne erano anche le protagoniste delle sue storie a fumetti. Cioè, c'era in realtà un parallelismo, c'è sempre stato un parallelismo tra le storie a fumetti e le cliniche medie. E questo è questo proprio visivo, puramente visivo, puramente nei personaggi, no? Per cui le prime cliniche medie c'è una proto-Valentina o una pseudo-Valentina, chiamiamola come volete, e poi via via se guardate negli anni si ritrovano gli altri personaggi. E mi scappava da ridere perché per esempio a un certo punto c'è una donna che lui ha fatto per fare Emanuella, che forse dentro la clinica medie non è proprio consona. Ecco, però è divertente perché lo stesso personaggio che io vedevo mentre lui lo faceva perché lui lavorava a casa, vedevo disegnare in tavole arditissime e estremamente spinte, c'era anche dentro Tempo Medico col suo camice che però sotto tradiva almeno un tocco di glamour, no? C'era sempre il vestito alla moda, la cosa che si vedeva e non si vedeva, cioè c'era sempre questa cosa. Quindi il primo punto, il primo punto di collegamento sono le donne, è giusto dirlo. L'altro, diciamo, più specifico del fumetto è il discorso della sceneggiatura dove c'è stato, c'era tra l'altro un grandissimo lavoro di equip dentro la redazione di Tempo Medico. nella sceneggiatura lui che si è amava moltissimo la libertà, la mancanza di paletti, però gli piacevano anche ogni tanto avere, come dire, dei punti di riferimento precisi, Per cui dovete, vedrete le immagini e c'è un disegno introduttivo dove lui con poche particolari racconta il caso, no? E deve essere molto aderente. E lì è, tra l'altro, divertente perché ci sono dei personaggi che dal punto di vista sociale non esistono più, per esempio, c'è il, non esistono più, insomma, non se ne parla più tanto, ecco, non è che non esistono più poverini, per esempio, c'è Operaio Meridionale, quello siciliano, quella coppolina, eccetera, eccetera, poi c'è la fotomodella amica con il miliardario, sembrano, sono proprio degli stereotipi, sì, certo che ci sono, però disegnati così stereotipati sono divertenti, hanno un, c'è sempre qualcosa di, perdonatemi, ma leggermente macchiettistico, no, c'è proprio un po' la caricatura di questi personaggi. E poi l'altra cosa meno visibile è nella seconda parte, la seconda parte che sembra, scusatemi, la cosa da profano, noiosissima, nel senso che è una discussione con termini scientifici molto precisi, perché giustamente poi dopo i medici si arrabbiavano se non usavate i termini giustamente, no, però è pieno di invenzioni di sceneggiatura, perché dovendo fare, pensate un po', 360 puntate della stessa cosa, dove c'è sempre un disegno di introduzione che è sempre diverso, quello per fortuna, ma i disegni dopo sono sempre la stessa scena, di fatto, perlomeno sono simili, allora c'è bisogno a cambiare, cioè c'è il lavoro del regista, per cui cambia il personaggio femminile, cambia, per esempio, c'è una clinica dove ci sono tutti in primo piano, i secondi sono leggermente sfumati, oppure c'è un personaggio centrale dentro un cerchio e tutti gli altri intorno che parlano, cioè se li guardate, io ho scoperto, Roberto, che quasi tutte non ce n'è una uguale all'altra, c'è sempre un piccolo, e qui scusate, ma papà in questo era unico, cioè aveva la capacità di ogni volta di mettersi lì sul pezzo e di creare sempre qualche cosa di nuovo, e se guardate bene ci sono sempre delle invenzioni di sceneggiatura dentro la clinica o media, quindi dentro dei paletti mi viene da dire molto stretti a volte, oppure esatto le riprese dall'alto, dal basso, oppure non so, per esempio ce n'è una carina dove si vedono i medici che parlano, poi c'è la scena vicino e vedrete c'è il corridoio e le voci dei medici che escono dal corridoio e si vede l'infermiera passante, e questo praticamente mi fa pensare a quello che mi ha fatto molto piacere, oggi ho letto un pezzettino che ha scritto una giornalista che non conosco su Vanity Fair, però molto bene ha detto sembra un po' dottor house questa cosa, cioè sembra effettivamente di vedere i filmati televisivi, poi come giustamente dicevi tu Roberto c'è questa anticipazione pazzesca, c'è il discorso della telecamera, loro che guardano, poi discutono, poi c'è la risoluzione finale, quindi c'è chiaramente più divertente per un medico che per un non medico, però è un gioco e qui finisco, volevo dire il terzo grande che magari voi non conoscete, il terzo grande punto di collegamento qual è? è quello del gioco, perché mio papà si divertiva come un pazzo a giocare nelle sue storie, per cui nelle storie a fumetti trovate citazioni le più svariate, più incredibili, il pezzettino di Thomas Mann piuttosto che la faccia di Trotsky che fa, nelle cliniche medie c'è un Trotsky che fa il medico che accompagna il paziente, è un Trotsky, proprio lui l'ha rifatto perché lui era Trotskista, c'era questa cosa, e quindi c'è questo divertimento continuo, questo mettere in gioco tante cose, mischiarle, un po' come un cuoco che improvvisa e comunque ha i suoi punti di riferimento culturali, e io infatti mi ricordo che ci sono stati degli anni che lui lavorava in una maniera veramente smodata, cioè se guardiamo la sua produzione, qui tra l'altro è stato fatto un lavoro molto bello per cui ringrazio il museo di parallelismo fra la sua attività extra tempo medico e il tempo medico, e c'è da non credere a vedere Roberto certe cose che lui faceva tipo del 1971 ha fatto qualcosa come quattro storie a fumetti, una campagna pubblicitaria enorme con dieci filmati, dieci spot televisivi, cioè ha fatto veramente l'ira di Dio, e io mi ricordo che lui arrivava a casa, io nel 70 avevo nove anni, e diceva madonna, adesso c'ho anche da fare tempo medico, no? E io sapevo che l'avrei visto la sera lì a fare la clinica media, però ci tenevo a sottolineare che proprio a parte ripeto, ribadisco ancora che mi spiace tantissimo che non c'è qua Carlo Felice oggi perché per noi è stato un amico di famiglia al di là del lavoro del papà e c'era questo legame fortissimo con la redazione di tempo medico per cui io mi ricordo che non si poteva assolutamente arrivare in ritardo, sarebbe stato un sacrilegio pazzesco, per cui lui era sempre era molto puntuale infatti dicevo per quanto noi siamo scarsamente puntuali lui era impressionantemente puntuale ma l'ordine ha voluto fortemente questa mostra e ha contribuito diciamo la sua organizzazione perché certamente queste cliniche medie che si sono succedute per 30 anni hanno rappresentato un pezzo di storia della medicina anche un pezzo di storia di ciascuno di noi io ero una lettrice accanita di tempo medico e nella clinica medica che frequentavo come studentese poi anche come specializzanda anch'io però sono arrivata poi alla specialità che era la clinica medica del professor Zanussi alla clinica medica del professor Zanussi e allora ho avuto anch'io il piacere di conoscere il professor Obbiassi che ogni tanto girava in corsia e ci portava via le cartelle perché diceva questo caso è molto interessante lo tengo per tempo medico al Granelli se sei quando eravamo al Granelli prima al sacco al padiglione sacco poi al padiglione Granelli e quindi insomma però a parte questo abbiamo pensato anche non soltanto appunto al nostro piacere di rivedere queste storie queste clinica medica ma anche a farle conoscere ai giovani medici che erano troppo giovani non c'erano ancora quando Crepax illustrava queste clinica medica e quindi di farle conoscere anche a loro perché sono anche delle opere delle opere d'arte sono veramente belle sono queste queste illustrazioni un'altra iniziativa quindi c'era piaciuta così tanto questa idea che abbiamo pensato anche di inserire una clinica medica in ogni numero della rivista trimestrale dell'ordine dei medici che era il bollettino dell'ordine dei medici che adesso grazie alla collaborazione con Pietro Dridi Zadiga si chiamerà invece informami e quindi in ogni numero ci sarà una clinica medica poi commentata il caso verrà commentato e rivisto alla luce delle conoscenze attuali naturalmente 30 anni insomma sono tante quindi la medicina ha fatto grossi passi e quindi insomma è giusto rivederle in questo senso e poi abbiamo pensato di utilizzare queste cliniche medica anche per un corso di aggiornamento quindi questo rivolto anche questo ai medici che avrà un po' lo stesso schema che si partirà quindi dalla lettura di alcune cliniche mediche che verranno poi discusse da vari specialisti e quindi poi questo offrirà anche lo spunto per fare poi un ragionamento su come si è modificato l'iter diagnostico e il rapporto col paziente in questi anni quindi speriamo insomma che i medici accolgano queste queste iniziative con lo stesso entusiasmo che abbiamo impiegato noi per organizzarle e quindi intanto vi ringrazio per essere qui oggi sono qui appunto in quanto delegato del rettore della statale alla promozione delle attività culturali dell'Ateneo e questo è un dato non estrenseco il nostro rettore è un medico il professor Gianluca Vago è un medico quindi credo che questo sia un elemento di evidente collegamento noi di interesse rispetto a questa proposta ma io sono qui anche come membro del consiglio di indirizzo di Apice e naturalmente anzitutto porto i saluti del rettore che devo dire ho visto ieri e sarebbe venuto molto volentieri non lo dico retoricamente ma per davvero anche se essendo ovviamente molto impegnato non vedendolo immagino che non è potuto essere qua ecco però è molto interessato all'iniziativa e se tutti sapete cos'è la statale non tutti sapete cos'è Apice immagino peraltro la statale ha delle dimensioni che forse sfuggono a molti se non a tutti vi do solamente due dati perché la statale ha circa 2400 docenti strutturati circa 2500 non docenti cioè amministrativi e conta su una popolazione studentesca di iscritti l'anno scorso che conta 65 mila soggetti quindi siamo di fronte a una sorta di ministero ecco 65 mila soggetti i studenti della statale sono una città di provincia di dimensioni medio-grandi questa è un po' la macchina bene all'interno della statale tra le tante realtà perché è un'università generalista credo che questa sia la sua forza e ha una gamba medica molto autorevole importante c'è anche Apice sciolgo diciamo l'acronimo archivi della parola dell'immagine della comunicazione editoriale è un centro che nasce nel 2002 e che adesso ormai ha acquisito diciamo una solidità e un'importanza riconosciuta a livello nazionale e internazionale che è stata concepita per raccogliere e studiare letteratura arte editoria grafica ed intorni attraverso acquisizioni importanti ma anche molte donazioni significative e ad oggi noi abbiamo dicono noi come Apice circa un po' più di 65 fondi tra per esempio carte e autografi ma anche biblioteche di scrittori ne cito solo due il fondo Mario Soldati che è di straordinario interesse oppure quello di Gina Lagori una donazione abbiamo fondi editoriali tutte le carte Scheiville per esempio l'archivio Bonpiani abbiamo collezioni di opere d'arte di grafica una delle maggiori collezioni europee di futurismo compresi i libri bullonati che sono rarissimi ne possediamo alcuni esemplari abbiamo anche documenti attinenti alle pubblicazioni periodiche giornalismo tipografia tutta la notte su cui peraltro facciamo un convegno giornata di studio il 24 ottobre alle 14.30 da noi in sala napoleonica siete tutti invitati la notte ovviamente serve a rileggere Milano e l'Italiano di quegli anni ma anche per esempio abbiamo le carte Mattioli relative all'editore Ricciardi e Ricciardi con i suoi classici italiani è la collezione d'editore di punta diciamo della letteratura italiana ed è un modello tipografico europeo questo è per darvi un po' l'idea bene all'interno di Apice c'è anche tra i fondi più significativi un cote diciamo medico e uno fumettistico quindi mi sto un po' avvicinando alla pertinenza abbiamo il fondo Alfieri il fondo Alfieri è un fondo credo unico in Europa come qualità e originalità perché è un fondo che raccoglie diciamo documenti in senso lato sulla donna il che significa che abbiamo delle opere 4-5 centesche per esempio il Vesaglio originale ma arriviamo agli almanacchi igienico popolari di Mantegazzo ottocenteschi quindi è un'idea di donna a 360 gradi dal punto di vista ginecologico dal punto di vista della maternità ma dal punto di vista psicologico comportamentale i galatei ottocenteschi le norme di buona condotta eccetera e Alfieri peraltro è stato l'allievo di Mangiagalli alla clinica omonima di Mangiagalli che ha fondato la statale perché il fondatore della statale è Luigi Mangiagalli che è ovviamente un medico ha fondato la statale nel 1924 io sono molto orgoglioso di questa nascita moderna e contemporanea della statale credo che sia un vantaggio non uno svantaggio abbiamo sempre vissuto complessi di inferiorità anche Mangiagalli ma poi ha vinto contro Golgi e Pavia ci si può ragionare bene è una università moderna nasce nel 900 e questo credo che sia un elemento che ne spiega il dinamismo e anche l'apertura Mangiagalli appunto è fondatore dell'Università degli Studi di Milano è fondatore ovviamente della clinica Mangiagalli questo è noto ma è fondatore della clinica del lavoro la prima in Europa è il fondatore dell'istituto di tumori la prima in Europa ha posato nel 1915 sull'isonzo c'erano già 30.000 morti alle cascine doppie cioè all'ambrati in mezzo al fango con Salandra Schuster Presidente della Cariplo e un concorso di popolo ha posato la prima pietra della città degli studi quando parte la guerra mondiale c'è la catastrofe che apre il 900 lui lancia il cuore al di là dice a Milano la città che Verga definiva più città d'Italia bella definizione l'unica metropoli una città degli studi quindi Mangiagalli tutto questo ho scoperto recentemente che è stato anche cofondatore della triennale e avrà altri è stato sindaco molto apprezzato ed è stato senatore per tre legislature lo dico perché appunto è un personaggio che meriterebbe ed è stato il maestro di Alfieri bene ma ad Apice c'è per esempio anche il fondo di Giovanni Gandini Giovanni Gandini naturalmente è il fondatore di Linus l'ideatore di Linus ma è anche il fondatore della casa editrice di riferimento Milano Libri e della ovviamente libreria Milano Libri luogo di elaborazione culturale d'avanguardia in senso però anche questo è interessante avanguardia non in senso elitario è aristocratico ma in un senso propriamente moderno cioè un'idea di letterarietà allargate accessibile cose nuove ma non sofisticate e dicevo Apice ha tutto questo ha per esempio una rivista farmaceutica che bisognerebbe studiare Lo Smeraldo poco nota che ha firme di autori assolutamente strepitosi che devono ancora essere inventariati lo dico perché il tema delle riviste aziendali medico farmaceutiche è un tema fondamentale perciò quando il dottor Drey indirizzato da rettore che ha provato subito l'idea è venuta da me e mi ha parlato di tempo medico ho subito pensato beh questo è una di quelle testate che andrebbe studiata una laurea specialistica tanto per incominciare ne abbiamo parlato potrebbe essere molto importante e appropriata bene fra i fondatori di Linus che voi tutti conoscete ecco tengo a precisare che naturalmente siamo nel mondo così del fumetto in una sede autorevole straordinaria io porto un punto di vista accademico che è come dire antropologicamente strano alla dimensione del fumetto quindi dirò delle cose che magari sembrano banali ma tenete come dire presente il punto di vista che credo però sia costruttivo dicevo che fra i fondatori di Linus sin dall'inizio c'era c'è stato Vittorio Spinazzola che insegnava letteratura italiana contemporanea alla statale e che è stato mio maestro e Spinazzola ha studiato i classici della letteratura ha fatto un libro fondamentale su Manzoni su Federico De Roberto su Emilio De Marchi che peraltro ha scoperto e lanciato lui perché il primo libro su De Roberto che era sconosciuto e detto così se verga il primo il secondo non è Capuana ma è De Roberto e forse i vicerei sono più belli del Mastro Don Gesualdo tanto per rimettere un po' in ordine le cose bene è stato lui a scoprirlo ed è diventato un classico idem Emilio De Marchi e così via ma in realtà interessante in quest'ottica e in questa sede è il fatto che Spinazzola ha diciamo così elaborato una concezione di letteratura e di letterarietà larga inclusiva aperta potremmo anche dire democratica senza pregiudizi cercando di registrare e ragionare in maniera strutturata e aggiornata sui fenomeni di letterarietà diffusa e allora nel 1995 una raccolta di saggi sua si intitola esce da Rizzoli l'immaginazione divertente sottotitolo il giallo il rosa il porno e il fumetto firmato da un professore ordinario che peraltro è il fondatore della disciplina non che dell'associazione nazionale eccetera eccetera un libro tutto centrato su generi bassi bassissimi di intrattenimento residuali marginali rivolte autenti non colti e all'interno del libro ci sono studi sofisticati di Diabolic Grand Hotel Liala Harmony Istuardo eccetera e naturalmente si parla anche di Crepax ecco che un critico letterario per di più accademico si occupasse di queste cose in effetti era ed è ancora oggi scandaloso che ecco ho fatto questa premessa perché sono molto contento di essere qui oggi tra voi e sono contento appunto di portare un interesse della statale per questa dimensione che non è affatto scontata per il mondo accademico universitario anzi credo che sia un segnale positivo e una conquista quindi ne sono orgoglioso grazie alla preziosa consulenza di Giuliano Cenati che è in sala e che è come dire il nostro braccio scientifico io di fumetti so poco e nulla non sono un esperto direi che questa collaborazione della statale è importante sia da un punto di vista culturale sia da un punto di vista istituzionale nel senso che noi ospitiamo una mostra di fumetti alla statale nella sede storica quattrocentesca alla Cagranda sul loggiato del rettorato che è il luogo più esclusivo e rappresentativo espositivo della statale che si affaccia sul secentesco cortile del Richini mi sembra un riconoscimento come dire proprio di setting di collocazione notevolissimo che risponde in realtà e vado a chiudere a quella che è la politica diciamo del nostro rettore e della sua governance ovviamente da me assolutamente condivisa e per quanto posso lo appoggio in questo cioè l'idea appunto che la cultura è una cultura elaborata accademicamente l'accademia ha come vocazione la ricerca e la didattica ma anche ha come impegno qualificante credo il rapporto con il territorio con la società con il pubblico genericamente inteso pubblico di specialisti naturalmente ma anche soprattutto in quest'ottica di non specialisti allora una mostra dedicata a un classico peraltro del fumetto del novecento come Repax secondo me è benvenuta ed è portatrice di questo valore aggiunto della statale oggi sono tante iniziative che vanno in questo senso ma non vi voglio annoiare quindi il fumetto come genere screditato letterariamente gli accademici lo considerano privo di qualunque interesse ma invece a cui mi è andato dignità nei fatti ospitandolo da un lato dall'altro il fatto che però Repax non è solo un autore di fumetti che già ma è un autore di fumetti che non sono affatto semplici sono sofisticati ma con una forte diciamo coloritura di carattere erotico e questo ovviamente negli anni sessanta quando è stato come dire ha avuto successo il riconoscimento è stato anche ovviamente elemento di censura è stato anche motivo ovviamente di ostracismo ecco faccio notare Valentina correggetemi voi nasce nel sessantacinque il saggio di Spinazzola su Charlie Brown che l'ha appunto come dire esposto all'udibrio del 1964 quindi un accademico doc che scrive un saggio su Charlie Brown non si dà e poi abbiamo un grande artista che disegna provocatoriamente femmine che non sono né specializzante né specializzate ma sono come dire accattivanti lo stesso ecco ultimo elemento è così che mi aveva fatto riflettere è che nel 2015 la Mondadori Mondadori Comics propone 30 volumi di Crepax a cadenza settimanale per celebrare il 50esimo anniversario di Valentina il primo volume è Emanuele l'antivergine se non ricordo male beh non è importante no? sì ecco ecco la cosa interessante secondo me è questa che in realtà questa collana fu allegata al sole 24 ore e fu una collana distribuita in edicola no? io ricordo che fui colpito è il fenò è il momento in cui esplode il caso tutto da studiare è fondamentale dei libri da edicola la prima collezione non è del Corriere ma è di Repubblica fu rifiutata dal Corriere su proposta di un editore spagnolo Repubblica esce con va dove ti porto il cuore con la Tamaro vende un milione di copie e un mese dopo alla rincorsa il Corriere fa la sua collana dopodiché le edicole sono diventate librerie per tutti fatto significativismo bene il sole 24 ore cioè il giornale della Confindustria propone tutto Crepax tutta Valentina il che vuol dire che viene uso un brutto termine ma chiaro sdoganata e proposta come lettura emblematica dalla nuova classe dirigente quindi questo mi sembra un elemento fondamentale di valorizzazione oggettiva anche dal punto di vista storico bene direi che a questo punto la statale si allinea con questo riconoscimento e quindi contribuisce con soddisfazione interesse e piacere a questo lavoro che peraltro è un lavoro condotto in modo molto serio e anche filologico e questo è fondamentale c'era stata la mostra di Palazzo Reale nel 2013 ovviamente come passaggio di istituzionalizzazione dell'autore Crepax ritratto di un artista e una tappa di emancipazione però direi che oggi con l'ingresso di un'università siamo arrivati alla definitiva consacrazione di un'università di un'università di un'università di un'università di un'università di un'università di un'università